oh ma ora è fare riccardo ti ho un caxênolo o no? fate riccardo fate riccardo e lui osuino io pigiassi tutti questi tutti questi tutti questi tutti questi tutti questi pietilli napoli Napoli va 6.3-1 Mannaggia la miseria Adesso vediamo Giovanni O Suino Guardate come sta a cosa c'è capillo Guardate l'acconciatura E mozza arriva di squilis State con un sacconciatura C'è rotto, molto fine, raffinato Molto i genico Ma seguiamo Giovanni Che vediamo se presto al tiro Eh va fuori Va fuori Giovanni C'è la tua panza Giovanni Vediamo c'è rotto, si apprezza al tiro Finora ancora nessun punto Vediamo Ha dato l'ok Questo è questo Incredibile Ti resta un strato Ecco il padre di casa che si vede a fare dei lavori dov'essi Vediamo Ciro, incredibile Ciro Solo un punto Solo un punto, dai ragazzi Vediamo Ciro Vediamo Ciro Vediamo Ciro Ma anche lui In totalità in tutto 4 punti Ciro Incredibile C'è rotto Totalità in tutto 5 punti Vediamo la schermata Andiamo Padre Riccardo Vamone amico Padre Riccardo E chi la fa? Ed è lui Sì Richiedimi la strike di Padre Riccardo Ed ecco Padre Riccardo Noi tutti ti adoriamo Alleluia Padre Riccardo si apprezzata No Andrea 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 deve andare Andrea già tirò E chi ti va a tutta il